Per coloro che non sono sarsi, come vedete la formazione del canto atenoico è formata da quattro voci, da quattro o un personale maschile, è un canto maschile, dico maschile anche perché si è fatto il tentativo di includere la voce femminile, però il risultato non è stato. Quindi quattro voci così distinte, ocche, basso, contra, misura, ocche, voce, voce solista, che ha il compito di intonare, cantare i versi e dare la tonalità e la calza. I versi che canta il solista non è necessariamente importante che gli altri tre li conoscano, i versi vengono scelti dal solista, anche perché gli altri tre rispondono con quelle sillabe che non hanno senso, ma, be, ma, vo, ma a quel determinato momento deve cadere quella sillanza. Tenete conto che questo è un canto che è stato imparato ad Oretti, è stato tramandato da padre e figli. È un canto ultramillenario e si è tenuto, e si è tenuto come si è iniziato questo canto. E penso che continui, che continui a rimanere tra. Poi viene su un basso, basso culturale, basso di golla. I nostri studiosi di tradizioni popolari ci dicono che in origine questo suono era un'imitazione di animale. Tenete conto anche che non tutti gli antropologi e etnomusicologi la pensano alla stessa maniera. Non tutti sono d'accordo. Perché dicono che scientificamente non è provato? Certo, scientificamente non è provato perché mille anni fa non si scriveva il suono. Il suono del basso viene fuori stringendo fortemente le corde. Poi viene sa contra, contra, controvoce. anche questo suono ci dicono che in origine era un'imitazione di animali. Quindi sono patologi, due luci di alimentazione di animali. Sentendoli separatamente sembra che tra basso e contra non ci siano sensi musicali. Quando sono abbinati assieme formano l'armonia. Infatti in origine basso e contra viene chiamato su terra. Il suono della contra viene fuori sempre stringendo fortemente le corde avvocato. Ma rispetto al basso il modo più viso. Infine, Samizuocche, che si può definire come un farsetto. Samizuocche secondo il giudizio dello scrittore Andrea De Palano, l'unico che abbia scritto il libro sul canto a tenore, secondo lui questo suono in origine era il suono del libro. Ecco, queste sono le altre del canto a tenore. Adesso vi presentiamo un canto di mare. Poco fa vi abbiamo presentato stirita e bocche notte. Bocche notte che significa bocce di notte, cioè serenata. Adesso vi presentiamo un canto di mare. Anzi, per facilitarvi il convito di capire il meccanismo di funzionamento del canto a tenore, vi facciamo sentire le nostre voci separate. E così vi renderete conto anche con quale sforzo si canta a tenore. Questo vi presentiamo con un motivo di ballo che viene chiamato del canto a tenore. Divina s'armonia sem diuton, divina s'armonia sem diuton, non è di raffiurino sem diuton, divina s'armonia sem diuton, divina s'armonia sem diuton. Contra! Granne s'armonia sem diuton, divina s'armonia sem diuton, divina s'armonia sem diuton. Ecco la harmonia. 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 Grazie.